Sei uno sviluppatore, un data analyst, un designer? Sei un mappatore, un geografo, ricercatore? Partecipa al Mappathon e costruisci il Piemonte su OpenStreetMap. Il concorso è aperto a tutti per realizzare una mappa digitale su OpenStreetMap e progetti utili per i cittadini. Il tutto utilizzando OpenData regionali e scegliendo un tema di interesse collettivo. Informazioni, regolamento e premi su www.piemontevisualcontest.eu C'è tempo fino al 9 febbraio 2015 per inviare la proposta. Con il Mappathon si apre la seconda edizione di Piemonte Visual Contest organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte insieme a TopX e CSI Piemonte in collaborazione con il tavolo OpenData della Direzione Innovazione della Regione per promuovere la cultura open e il coinvolgimento dei cittadini nelle politiche pubbliche.